Personale della DIA di Catania sta eseguendo un decreto di confisca nei confronti di Andrea Luca Nizza, 33 anni, per un valore complessivo stimato in 800.000 euro. Il provvedimento è stato emanato dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania. Nizza, con i fratelli Salvatore, Daniele e Fabrizio, quest'ultimo collaboratore di giustizia, è stato condannato in primo e secondo grado per estorsione, associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, armi e omicidio. I fratelli Nizza appartengono all'omonimo gruppo criminale, articolazione della famiglia di Cosa Nostra Catanese Santa Paola Ercolano, attivo nel popoloso quartiere catanese di Librino. Le numerose operazioni di polizia eseguite nel corso degli anni, in particolare Cartago, Fiori Bianchi e Spartivento, hanno consentito di ricostruire l'evoluzione del gruppo criminale, che dopo una collocazione inizialmente autonoma, si è saldamente inserito nella più ampia famiglia di Cosa Nostra Catanese, conquistando il monopolio delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti a Catania, Nerioni, Zia Lisa e San Cristoforo, nonché in altre aree della cittadina etnea. La confisca riguarda una villa con piscina, sita in località Passo del Cavaliere del Comune di Catania, un motoveicolo di grossa cilindrata, un'autovettura e vari rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in 800.000 euro. Il decreto inoltre dispone l'applicazione amnizza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di Residenza per tre anni, con obbligo di presentazione bisettimanale all'autorità di polizia e con il versamento a titolo di cauzione di 3.000 euro da versare entro 90 giorni.